Un saluto a tutti. Oggi vi porto in anteprima le coinvolgenti puntate di Terra Amara che andranno in onda sabato 10 e domenica 11 giugno. Preparatevi a immergervi in un capitolo avvincente della trama, colmo di emozioni. La testimonianza di Demir sarà un brutto colpo per gli sforzi degli avvocati che si battono disperatamente per ottenere la liberazione di Zuleya. I momenti di rabbia vissuti da Demir e Ilmaz lasceranno presagire l'inevitabile conclusione dell'udienza, portando entrambi in prigione, lontani dalle braccia dei loro cari. I figli attraverseranno un periodo difficile, mentre Adnan si lancerà alla ricerca per ritrovare sua madre. Nel frattempo, Beis tornando da Mujaygan e si troverà di fronte a una scena sconvolgente, Mujaygan verrà trovata senza vita nella vasca da bagno. L'atmosfera si caricherà di tensione, ma una corsa frenetica verso l'ospedale e l'intervento tempestivo dei medici si riveleranno fondamentali per salvare la vita di Mujaygan, che riuscirà a sopravvivere. Tuttavia, Zuleya si ritroverà nuovamente imprigionata e, dopo aver ascoltato le parole del marito, comprenderà che la speranza di riconquistare la libertà sarà ancora più lontana. Deciderà quindi di rivolgersi a Sabatin, un amico medico, per chiedere un favore che potrebbe cambiare il corso degli eventi in modo decisivo. Una triste notizia si diffonde rapidamente. Fekeli viene a conoscenza del fatto che Mujaygan è stata ricoverata in ospedale e, spinto dalla preoccupazione e dall'affetto che prova ancora per lei, si precipita immediatamente al suo fianco. La puntata di domenica 11 giugno ci regalerà il risveglio di Mujaygan, e la sua disperazione straziante farà spezzare il cuore di coloro che le sono vicini. Nel frattempo, Beys dimostra tutto il suo amore e la sua premura per Mujaygan, cercando di proteggerla dalla dura verità riguardante gli avvenimenti legati al processo di Zuleya. Tuttavia, l'arresto di Ilmaz e Demir raggiunge ulteriori complicazioni alla situazione già difficile. Nel frattempo, Atip fa la sua apparizione alla tenuta Yaman, determinato a recuperare la cambiale o persino a commettere atti di violenza contro Ghaffur. Ma grazie all'intervento di Saniay e Naciay, finalmente la verità viene svelata, mettendo fine alle oscure manovre di Atip. Nel frattempo, nella villa, Saniay fa una scoperta sorprendente. Razit, uno degli uomini fidati di Atip, è innamorato di Fadik, la ragazza che lavora per la famiglia. Nel frattempo, Ilmaz, ancora rinchiuso in prigione, viene a conoscenza del tragico tentativo di suicidio di Mujaygan. Il giorno successivo, grazie all'intervento di Yulide, sia lui che Demir vengono finalmente fatti uscire. Una volta fuori dal carcere, Demir affronta Ankar in modo deciso, affermando con fermezza che non permetterà ai bambini di visitare Zuleya in prigione e minacciando persino di privarla del diritto di vederli. Ilmaz si trova ad affrontare una difficile conversazione con Mujaygan dopo il suo gesto estremo. Quando sua moglie gli chiede di non abbandonarla, Ilmaz si ritrova immerso in una profonda confusione, incerto sulle decisioni da prendere. Il video termina qua. Se non l hai ancora fatto iscriviti al canale e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!